E' già perché non era malato ma neanche i malati spesso ci badano neanche i malati spesso ci badano compresi come sono del loro male neanche i malati spesso ci badano compresi come sono del loro male Madonna e dolorata Forse non sarebbe più prioritario l'assessore cercare i soldi per bonificare le tante discariche che si trovano anche sotto questo tracciato a due corsie perché con gli aeroplani con le fotogrammetrie non si vedono le discariche Grazie Grazie